A volte, spesso anzi, ci troviamo in una situazione di pericolo, diciamo. La situazione che io simpaticamente chiamo scilla e carilli, martello e incudina. Ovvero in una situazione in cui è difficile scappare, che può essere un momento complicato nella nostra vita, che tutti hanno prima o poi, in un modo o nell'altro. In queste situazioni ci serve però un faro, in modo simpatico un faralato, per chi la capisce. Un faralato che, in mezzo al mare Magnum, si possa aiutare a condurre la nostra via. E spesso la nostra via, oltre che guidata dal faro, è guidata da un grande stratega, diciamo una sottospecie di Ulisse, ecco. Un faro che ci aiuta a trovare una via di uscita, ma al tempo stesso anche una via d'entrata nei problemi altrui. Questo faro, questo Ulisse, quest'uomo, che ci aiuta a farci strada tra i vari problemi nel mare, tra le sirene, tra le arpie. Perché, almeno per me, se sicuramente tu e me, perché, sempre in modo soggettivo, hai sempre avuto un riguardo per me, mi hai sempre aiutato. Magari, a volte io, ho tentato di non farmi aiutare, perché sono fatto così. Ma, ciò non significa che io non apprezzi quando mi aiuti. Quando, semplicemente anche mi scrivi buongiorno, buonanotte, buon salve. Quando ogni tanto ci sfugge quel A.O. a caso. E mi fa felice. Perché tu sei una persona importante, speciale. Ma non solo per me, non solo per Tarten, ma anche per tutti gli altri che vedrai nel video, penseranno la maggior parte lo stesso. Perché sei una persona leale, fedele, con cui ti puoi confidare in qualsiasi momento. Che puoi chiamare, che puoi scrivere, e che troverà sempre un piccolo spazio per te. Quindi, questo video è stato realizzato dai tuoi colleghi, dai tuoi amici. Dai tuoi colleghi, ma principalmente i tuoi amici. Che si sono, diciamo, riuniti per dare vita a questo video. A questo video, sì, un video per i tuoi 18 anni. Un video che racchiude tutto l'affetto e l'amore che tu stessa hai dato a noi e che alla fine si è riversato verso di te. Perché è ovvio che se tu tendi a fare la cosa giusta, tendi ad amare, Tutto l'amore ti si riversa addosso di nuovo. E questa è una prova. Questo video, come detto, è fatto da amici, da colleghi. Alcuni hanno fatto 5 minuti di video, altri 2, altri 5 secondi. Ma gli ho chiesto io di farlo come più si sentivano. Non ho dato nessuna scaletta, né nulla. Io ho semplicemente detto, fallo, se vuoi, se ti interessa. E loro l'hanno fatto. Sono felice perché tu stessa rendi felice tutti noi, in un modo o nell'altro. Quindi, semplicemente, buoni 18 anni, buon compleanno. E ricorda che ti voglio bene, ti f***mo bene. Amy che ha detto a Amy, preparati a un mizzo di emozioni perché cercherò di farti commuovere. Ah, Amy. Scusa se c'è stata di usci a cercare dentro a mia stanza. Non ne capisco il motivo. Almeno non me lo ricordo. A parte questo. Ci conosciamo da 4 anni. Anche se ho iniziato a conoscerti meglio 3 anni fa. Mi ricordo ancora il giorno in cui abbiamo scoperto di avere un interesse in comune nel Zoom Raven. Creavamo a scuola. Tu l'hai seduta nel tuo banco e ti segnavi. Io, passando di lì, vedi che indossavo una felpa. Una felpa arancione nel Zoom Raven. Da lì subito chiedi. Io ho detto che il Zoom Raven anche a te piace. Iniziano a parlare. Però la competizione dura poco. Pochi giorni più tardi mi ricordo che il mio banco aveva un posto libero anche il tuo. Così durante la risulta della classe dove c'è finita di essere i miei dimenticatori subito a casa per sedermi vicino a piedi. E da lì iniziamo a cerchierare, a parlare, scoprimo di avere interesse in comune. E anche se su alcune cose eravamo conto, ci trovavamo ben insieme. E da lì iniziamo sempre, stavamo davvero bene. E da lì mi temi la cosa. Perché poi era una risulta continua e tutto. Siamo benissimo. Ho talmente tante cose di chiesto di te che non mi basta il tempo e non so come descriversi. Perché sei stupendo. Lei era mia mia amica e ti voglio un mondo di bene. Quindi un bacio, un abbraccio e ti auguro tanto bene. Buon compleanno. Ci vediamo presto, sovrimina. Ho conosciuto Senpai circa un anno e mezzo fa, quando abbiamo iniziato il terzo. È incredibile il fatto che appena l'ho incontrata e appena gli ho rivolto la parola, ho già capito subito che sarebbe stata una persona molto importante per me. E effettivamente la mia premonizione, diciamo, si è avverata. Già dopo poco tempo che ci conoscevamo, avevo già voglia di condividere alcuni aspetti della mia vita che non avrei mai condiviso con una persona qualunque. Effettivamente, questo è uno dei punti forti. È una persona gentile, è una persona empatica, è una persona sempre presente. Diciamo che forse è anche per questo che andiamo d'accordo. perché è come se lei avesse tutto quello che io non ho. Cioè, è incredibile il fatto che nonostante a me comunque non piacciono gli abbracci, o le persone in generale, i suoi abbracci hanno sempre avuto un significato particolare. Non erano abbracci dati così tanto per darli, erano abbracci veri. Ed è per questo che comunque, appena iniziata la quarantena, già mi mancavano subito. E sicuramente mi mancava anche tanto, mi mancava tanto anche lei. Ed è per questo che, appena dopo la quarantena, gli ho dato un abbraccio fortissimo, nonostante non si potesse fare, quindi acqua in bocca. E è stato veramente molto emozionante, perché mi è mancata tantissimo. E' una delle persone migliori che abbia mai incontrato. E' una delle persone migliori che sicuramente incontrerò. Le voglio un bene dell'anima, ma proprio tanto bene. E lei si meriterebbe molto di più di quello che sto dicendo. Però non voglio fare questo video troppo lungo, quindi... La chiudo qua. Ti voglio bene, bro. Ti voglio bene, bro. Eh, Emmy. Di cosa si può dire di Emmy? Innanzitutto auguri per i 18. E... E' una persona veramente speciale, perché comunque... Sa stare vicino alle persone, fa amicizia facilmente. E comunque... Riesce a farti parlare, riesce a farti parlare, diciamo. Nel momento in cui sono stato domani, mi è stata vicina. E le voglio bene. Avevo già intenzione di scriverli io, prima che mi scrivesse lei. Però... Mi ha scritto lei, praticamente ci siamo conosciuti su Telegram, perché mi voleva invitare a fare la tombola. Poi una certa volta, poi noi siamo iniziati a scrivere e abbiamo iniziato a fare anche delle chiamate, quindi abbiamo potuto parlare di persona. Le voglio un sacco bene, perché è veramente una persona che mi è stata vicina quando sono stato male. E comunque... Sa essere una brava amica, sa essere una brava persona e anche una brava collega. Ok. Sì, stavo cadendo dalla poltrona. Allora... Buon compleanno, Emy. We wish you a Merry Christmas. Ma se capisci... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Basta, basta. Allora, com'è Emy per noi? Com'è? Cos'è Emy? Devo raccontare tutta la storia, come l'ho conosciuta, cose, cose... Più vicino al microfono. Eh no, perché sto imbarazzato su sta cosa per questo, sto lontano. Prendo le distanze. Allora... E' parte tu, eh? Vabbè, abbiamo conosciuto questa... Hai conosciuto? E poi... Di chiappo a me po'. Ah, ok. Io ho conosciuto questa maledetta kingfag. Anche lei? È una kingfag. Ma grande, Emy, non lo sapevo. Ma cosa grande, che voi siete il male assoluto. No, ma è figo Kingo. Ma vai a fanculo te, Kingo. Sto scherzando, ovviamente. Comunque... Conosciuto tramite... Ormai... Cioè, praticamente, ci conosciamo tutti tramite YouTube, no? Però mi fa molto piacere, perché ho stretto una buona amicizia con te, sono molto contento e... Nonostante tu preferisci Kinga a Darren, sei una brutta persona. Vabbè, ma gli spiace Darren. Però dai... Vabbè, sì. È una santa protettrice di Darren. Vedi? Vi apprezzo. Vabbè... Mi è piaciuto fare i video con te. Grazie ancora per i disegni che ci hai fatto. Le fan art. E soprattutto la maglietta che hai fatto con questo... Tronzo. Un altro colpo, dietro alla schiena... E finisci paralizzato. No, sputo la caramella che ho appena mangiato. Ok. Niente, ti voglio bene, e mi tanti auguri. Ora tocca insieme a parlare. Allora, Emy. Sabato scorso. Ovvero, quando era sabato scorso? Che giorno era? Aspetta. Sabato scorso era il 2. Ok, il 2. Perché ora è il 9. Abbiamo fatto la live insieme riguardante la tombolata. Potresti anche guardare in camera. Abbiamo fatto la live insieme della tombolata. La domenica abbiamo parlato su Telegram. No, su Discord, sorry. E niente. Pollo. Lo sapevi che ormai Emy è ufficiale e mia? Cioè, così ci siamo messi d'accordo. Sì, è strana la situazione. No, non è nessuna dichiarazione d'amore, raga. Non è niente, no. Siamo compagni. Siamo i miei best friends. Ok. BBF. BBB. Vabbè, scrivo le cazzate a parte, cosa. Emy, ti faccio i miei più sinceri auguri di buon compleanno. Quanti anni ha fatto? 18. Ne fa 18. Uh, entri anche tu nella cerchia dei vecchietti, quindi. Finalmente non puoi essere più pe... Non lo sono mai stato, ma dettaglio. Conque dicevo, lui 22 a novembre, tra poco. Quest'anno. Tra dieci mesi? Io 23, fra dieci mesi. Uai, ti vedi a me in tre anni? Eh, guarda, già hai 22, guarda caldo. Eh, no, dico, come mi porto? Mi porto piccolo, sembra un diciassettenne. Sembri sempre un sedicenne, beato te. Appunto, buono. Quindi, eh, mi stai facendo come sedicenne, stai facendo il vecchio pure tu. Mi raccomando, se vengo a Roma questa estate, non ti scorda i bastoni, in modo che almeno andiamo a vedere i cantieri insieme. Penso che ci siano dei cantieri a Roma, no? Vicino a Colosseo. Abbiamo visto... Perché siete degli idioti? Abbiamo visto le baracche vicino alla stazione di Roma, quindi, vedete che non ci sarà un cantiere. Quindi, niente. Ti voglio bene, auguri ancora di buon compleanno, e, niente, ciao. Ciao! Ma non c'è chi? Ah, ok, lo sto prendendo. Ciao! Ciao, Emi. Sono Etty. Allora, non mi sono fatto il copione perché mi sembrava sbagliato farlo, in quanto sarei dovuto rimanere lì a parlare, parlare a stecca in continuazione, non mi sembrava corretto. Cioè, leggevo, non sarebbe stata una cosa giusta, una cosa vera, se intanto lì c'hai letto tutto sfatto. Non ho tanto da dire perché non ci conosciamo da tanto. Sarà un annetto, neanche, anche meno di un anno, a dire il vero. Però io mi ricordo una cosa, che quando Bjorn mi disse di aver fatto un video con te su Spin the OTP, e il video magico. Io mi ero un pochino interessato perché è una cosa carina. Solo che io ho paura di approcciarmi alle persone. Non è che sono timido, però non voglio dare un'impressione sbagliata. Quindi, solitamente, sempre molto casino in camera, quindi non voglio dare una brutta impressione, quindi ho chiesto di farmi iscrivere. Tu mi hai scritto. Ci siamo accordati di aver registrato su Skype. Abbiamo legato quasi subito perché io sono un coglione e faccio amicizia con tutti. Tessa è una bravissima persona e fai amicizia con tutti, quindi ci siamo quasi subito trovati come amici. E infatti, anche dopo che abbia finito di registrare, ci siamo fermati un'oretta e mezza a parlare, se ti ricordi. Ne ho un parto del piede del meno, tutto quanto. Ma tipo, ogni giorno io se ho roba su Nathan te la passo perché è il tuo personaggio preferito e mi fa piacere tipo ricevere del feedback, tipo che belle quelle che trovi perché io so disegnare bene quanto un bradipo si muove. Quindi, esatto. Però il punto è che ricevere un risponso per quanto positivo o negativo sia mi piace perché è una cosa che trasmette emozioni secondo me. È anche semplice dire ciao come stai da posto oppure parlare perché sì anche quei dieci minuti a me fa stare bene perché ti piace interagire con le persone e te sono di quelle poche persone con le quali non vorrei quasi mai chiudere i rapporti perché sei brava sei intelligente e ti voglio un mondo di bene nonostante non non parliamo chissà quanto non faccio chissà quanti non vengono quasi mai live ma potessi fare più spesso e comunque voglio dire che nonostante questo video lo stia facendo il 16 perché è stato un piccolo di merda voglio dire che ti voglio un mondo di bene e spero che manca e spero che passai una buona giornata per il compleanno ecco spero che ti piacciono le parole che ti dicevano tutti dal primo all'ultimo se vuoi incodere anche a me mi fa piacere e niente tanti auguri tutto qua ciao amica sono suba e tanti auguri per il tuo diciottesimo compleanno stai diventando maggiorenne no ti faccio le mie congratulazioni ti faccio tanti tanti auguri per aver raggiunto questo risultato si sto guardando il computer perché beh sai com'è non si sa mai se il microfono funzioni o meno e niente volevo solamente dirti questo tanti auguri buon compleanno felici diciott'anni volevo semplicemente dirtelo perché i diciott'anni capitano una sola volta dovresti esserne contenta di essere arrivata a questo risultato e di essere entrata perlomeno nel mondo degli adulti quindi tanti auguri amica spero che ti passa bene la giornata del tuo compleanno e niente tanti saluti ciao ciao emmy una farfallina di nome tartan mi ha detto che compie diciott'anni e quindi ci tenevo a farti auguri e a ringraziarti per avermi tenuto compagnia dopo l'americino avevo nulla da fare con le tue chilling room ancora auguri ciao emmy buon compleanno bene modalità maria de filippi attivata si è rotta l'asta devo per forza parlare così ciao emmy auguri buon compleanno buon diciottesimo compleanno perché diciottesimo non fare caso le cose dietro sempre in disordine ho queste cuffie che non sono neanche collegate al computer sono collegate al telefono quindi non so perché ce le ho sto per andare in live e prima di fare la live finalmente ho trovato un po' di tempo per darti questo messaggino non fraintendete la posizione in cui ho la mano cioè emmy per favore tu che sei bravo allora lasciamo stare emmy 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 perché già le sai quindi sinceramente fare un messaggio troppo strappalacrime di cose che già sai di cose che già ci siamo detti già ti ho detto sarebbe inutile sai basta ti basta sapere che sei una una buona amica una grande amica spero che con questi 18 anni acquisirei tutta tutta la maturità necessaria per vivere in questo mondo frase ad effetto cioè niente auguri ti voglio bene anche anche questo sì ciao tartan ps giuro che mi faccio la barba cioè devo farmi me la devo fare cioè puri dovrei aggiustarmi un po' però c'è nel senso prenditi sto messaggio cioè va bene così però sì mi dobbia un po' fare baffi vabbè questa è un extra non c'entra niente ciao auguri ciao e mi ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno e tanti auguri anche per i tuoi 300 iscritti continua così sei una grande artista e una grande youtuber mi dispiace non poter fare un video però non sono davvero nelle condizioni questi giorni quindi faccio un audio volevo fare gli auguri ad emmy per il suo diciottesimo e volevo dire che la trovo una persona stupenda e anche se non la conosco bene credo che ci sia un rapporto carino tra di noi nel senso non parliamo molto e non ci conosciamo appunto bene però lei mi è sempre stata simpatica sin dall'inizio l'ho sempre trovata una persona dolce gentile sempre disposta ad aiutare gli altri e quando ci ho parlato meglio ho proprio capito che era come me l'aspettavo quindi ripeto mi dispiace non aver potuto fare un video però volevo augurare ad emmy il migliore diciottesimo di sempre auguri emmy auguri emmy ha visto la citazione speciale con la bandana in tuo onore e anche questo giubutino con questa felpetta che è quella del tuo disegno per il mio logo allora intanto ti ringrazio di cuore per il magnifico logo che mi hai fatto e per il magnifico logo che ti ho parlato e poi ti voglio augurare questo il migliore dei compleanni perché è il diciottesimo con questa massima allora il diciottesimo non vedrai l'ora che arriva perché pensi che cambierà tutto poi arrivato il diciottesimo ti accorgerai che non cambierà niente per poi accorgerti anni dopo che in effetti era cambiato tutto ma a parte queste perle di saggezza volevo molto seriamente insomma congratularmi con te per quello che è il tuo progresso su youtube ma soprattutto la cosa più importante è farti complimenti per la persona che sei come ti ho già scritto è stata una bellissima scoperta l'anno scorso ho incontrato ho scoperto una ragazza veramente molto molto capace molto molto buona molto molto gentile sensibile è stato un piacere collaborare con te e sarà un piacere farlo ancora in futuro io ti auguro veramente il meglio perché te lo meriti come sempre karma e sangue freddo e ci vediamo nelle prossime collaborazioni e grandissima e ancora tanti 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 auguri ciao e a me tantissimi auguri di buon compleanno e anche se non ci conosciamo bene come con il resto della community prima o poi rimedierò facendomi vivo su discord ad ogni modo ti faccio tanti tanti auguri di buon compleanno ciao ti aspettavi qualcuno di importante e invece sono io nico che te c'è a parte tanti auguri di buon compleanno e mi stai pian piano anche tu crescendo arrivando nel mondo degli adulti e questo significa un cazzo non cambierà nulla nella tua vita a parte le tasse ma comunque ammetto che quando tanti mi ha chiesto di fare questo video non sapevo bene che cosa dire tipo mi ha detto ehi vuoi fare gli auguri a me per il compleanno in un video si e spendi anche le parole su di lei merda e mo che cazzo dico effettivamente perché te ci conosciamo da davvero poco e quindi non saprei cosa dire anche se comunque qualcosa l'ho intravista tipo la tua bontà infinite il tuo bisogno di scusarti sempre anche quando magari non hai fatto nulla e niente sei davvero una persona squisita quindi continua così davvero non lo dico solamente perché sono in concorrenza con Bruno per conquistarti eh ti scherzo ovviamente no tutta tua bro ehi emi e ho fatto posta a Tarten a mettermi come ultimo video e non ti nego che questo è il secondo video che faccio per il tuo compleanno che avevo già fatto uno ero forse il giorno dopo che Tarten disse ehi ragazzi mandatemi i vostri video un mese un mese sono cambiate tante cose tramite io sinceramente dico che c'è qualcosa che ci finisce tantissimo stiamo ogni giorno insieme sia io che te necessitiamo di stare insieme necessitiamo di parlare insieme di dirci le nostre cose non siamo più BM Mission ed Emmica ma siamo Bruno è la mia Emmy però non è più un contatto telegram sei diventato qualcosa di più grande di più bello e insomma che dirti oltre a buon compleanno dico che mi ritroverai in futuro e non solo via cellulare ma anche da vicino come già ci siamo promessi di vederci e oltre a questo forse è vero siamo la coppiettina del momento e che ci sfottano un po' di persone mi sfottano però effettivamente è vero abbiamo legato tantissimo e non possiamo far meno di non parlarci e non lavorare insieme perché noi stiamo bene insieme si può dire così e niente non fraintendete voi altri che state vedendo il video però vi dico solamente una cosa che se io stavo a Roma Emmy era tutta mia ciao ragazzi e buon compleanno Emmy cara noi come al sempre tanto oramai ci sentiamo ogni giorno ogni buona notte e ogni pomeriggio a Roma a Roma a Roma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti